In Evermore su Radio Elettrica Letture Metropolitane, bentornati, bentrovati, è una puntata un po' speciale, ma molto, stavo per dire molto italiana, ma no, mi sono già dato lo Stanislao Rochelle sulle mani. Sì, abbiamo sentito The Death of Passion, era in Evermore, dall'album del 1999, Dreaming Neon Black. Beh, direi che dal punto di vista delle date siamo giusti in dirittura dell'intervista con Eleonora Caruso e poi scoprirete perché. Avevamo ricevuto un messaggio piuttosto puntuale da Andrea, ma quasi appunto una richiesta non di aiuto, però... Un consiglio, noi abbiamo detto girateci le vostre richieste se avete qualche bisogno, qualche necessità, avete bisogno di consigli letterari, ma anche su cose da vedere. E Andrea ci chiede qualche consiglio di film da proporre a dei ragazzini dai 7-8 anni fino ai 10-11, legati ad Halloween, immagino, no, perché dice il tuo ottobre, ok. A me è venuto subito in mente Ocus Pocus. Sì, assolutamente, sì. Film di streghe, molto divertente, con delle meravigliose Beth Midler, Sarah Jessica Parker e Katyn Amy, un film pazzesco, che è stato poi, diciamo, sequelizzato, mi sta mettendo adesso questa parola, mi pare l'anno scorso? Sì, è arrivato su Disney Plus come produzione. Meno bene il 2, il primo è incredibile e ve lo consiglio tantissimo. Così come ci sono altri consigli, diciamo, rimanendo sugli anni, andando sugli anni 80, forse i Goonies potrebbe essere carino, Nightmare Before Christmas sicuramente, credo che sia molto adatto, molto interessante. I vari hotel Transylvania, se vuoi, diciamo, rimanere proprio, diciamo, di da scalico. Più vicino al limite basso. Così come anche la famiglia Adams, secondo me, è carina. Io aggiungo un film che non è propriamente per il 31 ottobre, ma mi mette sempre quella sensazione di autunno brutto, che è la storia infinita. Ah beh, è un po' triste, sì, in effetti sì. 1984, Wolfgang Peterson, prima che si buttasse nella guerra dei troiani, perché è il regista di Troi. Penso a te. Ma ha realizzato questo film, è inutile che lo recensisca o lo descriva, perché probabilmente ha traumatizzato tutte e tutti le persone in ascolto. Secondo me è un buon modo, anche per inserire, vabbè, se vai a portare di mano il romanzo di End è ancora meglio, però stiamo salendo un po' sul target. Non è proprio minuscolo il romanzo di End. Non è un libello, ci fermi le porte. Però perlomeno, ecco, sicuramente è un film che permette una riflessione dopo, questo certamente sì. Sempre dalla stessa parte, anche piuttosto con lo stesso mood, ma un po' più camp, come Labyrinth. Labyrinth, stupendo, bellissimo, meraviglioso, c'è David Bowie, già questo può bastare. Posso aggiungere invece una cosa un po' più mainstream, un po' più recente, che però secondo me fa sempre la sua figura, Coco. Perché Coco è molto carino, parla del Dio dello Smuertos, cioè parla, è ambientato, insomma, nel momento del Dio dello Smuertos, molto carino. Anche per approfondire, diciamo, una festività un po' diversa dal solito Halloween. Cioè spostarsi anche un po' geograficamente, un po' meno America del nord centrico. Sì, fare il passo avanti e uno laterale, la mossa del cavallo serve sempre per un punto di vista differente. Ti abbiamo dato un po' di consigli, Andrea, non so se vuoi approfittare, se gli altri ascoltatori e ascoltatrici ne hanno, basta scrivere a 351-5241-101. Potete anche voi consigliare delle cose adatte a quella fascia d'età e Andrea prende appunti. È arrivato un messaggio al 351-5241-101 da Mauro che dice Buongiorno dorsignori, su Prime consiglio a Flavia Baba Otepp, film semi-horror tipo Armata delle Tenebre. Tra l'altro hanno messo su Prime perché prima stava su YouTube, forse c'era addirittura una versione su... Baba Otepp? No? Non credo. Non lo so, era una versione non il massimo, insomma. Vabbè, vedi, dice sì, infatti. Allora, forse abbiamo iniziato a vederlo insieme o l'ho iniziato a vedere da sola ma poi non ho proseguito, non avevo molto tempo. Però ci riprovo, ci riprovo anche perché l'Armata delle Tenebre in generale è uno dei miei film preferiti. Ho anche un poster da tempi non sospetti, da adolescente più o meno. Nella cameretta, sì. Nella cameretta da adolescente, visto che tra l'altro oggi si parlerà tantissimo di anni 90 e primi 2000, vi anticipo. E nella mia cameretta da adolescente, la Barry Poster, c'erano alcune locandine di film, tra queste Cruel Intentions, che è uno dei miei film preferiti, L'Armata delle Tenebre, appunto, e poi, vabbè, mi sfugge, ma se me ne vengono in mente altri ve li dico. E è un film che ho amato tanto. Diciamo che siamo su quel genere horror, però ironico, ironico, grottesco. Se volete lanciarvi, questo è per, diciamo, la parentesi horror, perché evidentemente Mauro, che è un ascoltatore anche del martedì, sa che io sono un'appassionata di horror, sia da leggere che da guardare. Quindi, se avete consigli da questo punto di vista, io accetto tutto, mi piace. Sapevi che il protagonista di Bobo Tep e dell'Armata delle Tenebre è la stessa persona? È lo stesso, è Bruce Campbell. Bruce Campbell, esatto. Che compare praticamente in tutti i film di Sam Raimi, compresa la trilogia di... So? No. Spider-Man. Spider-Man, perfetto, io so. Hai sbagliato di poche parole. Però aspetta, sì, sto per dire cose a caso, credo. Fa delle comparsate. Bruce Campbell è comunque un attore molto famoso. Sì, a prescindere. È quasi come se fosse quelli che da noi vengono... Dirò una cosa, tipo i caratteristi, però cioè quegli attori che tu vedi in continuazione ovunque, pur non essendo star che hanno magari una grande enomea per film di un certo livello, insomma di un certo peso, però sicuramente è un personaggio iperconosciuto. Vado un po' a memoria, o soprattutto a tentativi, ma credo sia anche presente nella serie televisiva Xina, la principessa guerriera. Sì, fa il cattivo, diciamo il cattivo, il... Credo, no, fa un autolico? Autolico, sì. Chi è? No, forse è l'amico loro autolico. Ha dei baffetti da Frank Zappa? Sì, no, no, è il loro, diciamo, aiutante, non so come dire. Ah, Alfred. Sì, perché in Xina, la principessa guerriera, gli uomini non è che ci fanno mai una gran figura. Ma anche nella realtà reale. E quindi o sono i cattivi o sono dei sottoposti. E guarda un po', ci sta pure bene questa canzone. La prossima canzone che vi facciamo ascoltare sono i Viagra Boys e questo è Troglodyte. La prossima canzone che vi facciamo ascoltare sono i Viagra Boys.